Dopo l'ultimo video in cui Zano nelle sue story sister mandò a spiegare il motivo per cui effettivamente l'ha smesso di streamare È capitato che chiaramente il filmato è girato parecchio e moltissime persone nella live di Blur gli hanno continuato a chiedere a spam cosa ne pensasse al riguardo Blur si è espresso in maniera anche abbastanza innervosita perché chiaramente le domande erano molto persistenti e quindi vi lascio a filmato della sua risposta Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Ma c'è allora stiamo famo sul serio famo o non famo proprio nel senso Donna regà ma già che uno si apre e dice delle certe cose ma lasciatelo perde ma vi pare che dovete andare a chiedere all'arte Non è che ogni cosa che succede nel mondo deve avere il pensiero esposto di un'altra persona pubblica perché non c'è alle volte senso E soprattutto mi dà fastidio quando chiedete l'opinione di qualcuno perché sembra quasi che la state a chiedere in maniera della serie Cosa devo dire? Cosa devo pensare io di questa persona? Te lo chiedo a te così che almeno poi prendo quello che dici tu e lo assimilo nella mia persona Pensateci voi, pensateci voi solo che poi non ci pensate se poi leggo nel streaming degli altri Oh ma Zano dov'è? Non è idea chi è di Zano dov'è? Prima cosa perché non bancate di rispetto alla gente che sta streammando Quindi poi io devo eliminare i commenti su Zano e la gente mi scrive elimini i commenti su Zano Secondo voi perché già ve l'ha spiegato lui Cristo di Dio Basta